Ciao a tutti, in questo video voglio parlarti delle tre regole base per seduare con i messaggi. Allora, la prima regola base è quella della reciprocità. Non scrivere messaggi più lunghi o più frequenti rispetto a quelli che descrive l'altra persona. Quindi anche come tempi di risposta cerca di ricalcare la modalità dell'altra persona. Questo è fondamentale per non dimostrarti eccessivamente attaccato, eccessivamente bisognoso. La seconda domanda, la seconda tattica diciamo così è se l'altra persona non ti risponde tu attendi prima di riscrivere, lascia passare, almeno addirittura puoi arrivare fino a 21 giorni e poi magari manda un messaggio, test, come se niente fosse, come se tutto il resto non fosse successo e poi riluppa. Questo sono tre regole fondamentali per generare attrattività, per dimostrarti, per dimostrare interesse, per dimostrare valore superiore che sono le basi diciamo per riuscire a portare a termine un coinvolgimento. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo due cose importanti. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di partecipare a un'estrazione di 10 corsi sulla comunicazione seduttiva e gestione delle emozioni che potrai fare con me o dal vivo o via video. Quindi iscriviti al canale. La seconda cosa è che venerdì 20 gennaio 2017 terrò a Torino un corso sulla comunicazione seduttiva per raggiungere successi in amore e la gestione delle emozioni. Quindi venerdì 20 gennaio 2017, Torino, ore 20.45, Educatore della Providenza, in corso 3013. Per info il numero è il 333 15 11 703. Ciao!